È vero che ogni anno devo pagare 3-4 mila euro di tasse a prescindere se fatturo oppure no? Dunque ragazzi, questa è una domanda molto interessante perché la risposta è no. Ad esempio, io ho un codice a teco di servizi e quindi io pago l'IMPS soltanto in base alla percentuale di fatturato che faccio. Infatti la mia IMPS si chiama gestione separata IMPS e questo tipo di IMPS a percentuale in base a quanto fatturi è una cosa molto tipica dei servizi. Quindi se ad esempio io quest'anno avessi fatturato 1000 euro, le tasse che pago sia IMPS che tasse dello Stato le pago soltanto su quel fatturato di 1000 euro. Invece se ad esempio vuoi vendere prodotti, non servizi ma prodotti, quindi che ne so se è un negozio di magliette o vendi videocorsi online, allora in quel caso devi aprire un codice a teco di ditta individuale, si chiama così. Quindi semplicemente è sempre una partita IVA forfettaria, però per essere a norma e quindi per lavorare come commerciante, quindi come colui che compra e vende della merce, anche se è un videocorso è inteso sempre come merce digitale online, comunque ragazzi dovete iscrivervi alla camera di commercio, questa è una cosa che fa ovviamente Fisco Zè nel vostro commercialista, e quindi c'è un IMPS fissa che addirittura va a coprire i primi 15.000 euro di reddito. Non ricordo se è reddito o fatturato, ma comunque siamo lì, queste qui sono le cifre. Poi superato questi primi 15.000 euro pagherai l'IMPS a percentuale. Detto ciò ragazzi, questa IMPS fissa si tratta di 3-4.000 euro, se sei sotto i 30 o 35 anni puoi chiedere anche lo sconto a inizio anno, tipo di 1000 euro, e comunque lo puoi reddizzare in 4 volte, quindi lo paghi in 4 volte durante l'anno. Cosa succede? Che se tu fatturi meno, comunque la paghi. Questa è l'unica, diciamo così, fregatura, passatemi il termine, quindi chiaramente quando tu vai a aprire una partita IVA da commerciante, devi essere anche abbastanza sicuro o sicura che farai un buon fatturato, se no rischi di pagare più IMPS di quella che poi ti meriti e è giusto pagare. Però, ripeto, se offri servizi, questa cosa qua non ce l'hai, quindi puoi stare tranquillo. Inoltre ragazzi, se avete altre domande che volete farmi riguardo la partita IVA oppure l'esperienza che ho avuto in questi ultimi 7 anni, commentate qua sotto a questo video di YouTube, oppure se vuoi fissare una consulenza gratuita con un consulente, in questo caso FiscoZen, che è una partita IVA online ottima per iniziare, trovi nella descrizione di questo video il link per fissare una consulenza e sbloccare fin da subito un bonus di 50 euro. Oppure, se vuoi vedere il video integrale dove rispondo alle altre 15 domande riguardo la partita IVA, ti basta cliccare qua per appunto vedere il video. Ti aspetto dall'altra parte.